Il vantaggio del GPL, che non è gas propano liquido ma è gas di petrolio liquefatto, è che rispetto al benzina costa molto meno, circa la metà o poco di più o poco di meno, poi dipende dalla regione e dal periodo, se è estate e inverno, perché oscilla un pochino come la benzina. Rispetto al benzina fai meno chilometri per litro, cioè se col benzina fai i 10 per litro, col GPL probabilmente magari ne fai 7, 8, ok? Il vantaggio è che appunto, come ti dicevo, costa molto meno, quindi l'impianto che ha un costo abbastanza importante, intorno ai 1500 euro, secondo poi 3, 6, 12 cilindri, quello che vai a montare, minchia 12 cilindri sono più pesante, ha dei costi più o meno alti, ti ammortizzi poi in base ai chilometri che fai, se fai 30-40 mila chilometri all'anno, in un anno, un anno e mezzo, due al massimo te lo ammortizzi, dai. Il problema è che non tutte le macchine lo possono montare, logicamente al momento solo le macchine benzina, ma tra queste benzina non tutte le macchine lo possono montare, perché ci sono alcune vetture che sulle valvole sono molto delicate, e quindi si rischia, una volta montato, di avere dei problemi di bruciatura valvola. Ma andiamo a capire il motivo per il quale tendono a bruciarsi le valvole sui motori a benzina. Dopo tanti chilometri o sui motori che non sono predisposti, e quindi poi in realtà per poterlo far andare bene dovresti fargli una modifica sulla testa apposta per far funzionare in modo corretto ed evitare la bruciatura delle valvole. Allora, questo qua, questo qui è la testa, ok? Questi qua sono i condotti di aspirazione e il condotto di scarico. Allora, qui non ci stava in foto, perché io già sto usando il foglio E3, ma immaginiamo che qua c'è l'iniettore della benzina e poco prima o poco dopo l'iniettore del gas. Viene iniettata la benzina, passa insieme all'aria, quando la valvola si apra, passa insieme all'aria e si mischia, e le particelle di benzina, che comunque sono liquide, riescono ad andare ad appoggiarsi in parte sullo stelo, nel fungo e nel punto di appoggio. Questo fa sì che riesce a, intanto, parzialmente lubrificare, ma in particolar modo riesce ad abbassare le temperature. Cosa che il gas, proprio per sua natura, non riesce a fare, perché anche se viene spruzzato, comunque un gas non ha materiale che riesce ad appoggiarsi e lubrificare e soprattutto ad abbassare le temperature. Quindi la valvola, quelle magari un pochino più sottili rispetto a quelle classiche normali, tendono subito a surriscaldarsi in punti più deboli perché hanno poco materiale e ahimè parte la bruciatura. Ora, se sei intenzionato a fare un impianto a gas, la prima cosa che ti devi preoccupare è se la tua macchina lo può montare. Non andare dall'installatore, chiama direttamente l'azienda che produce l'impianto. Chiami tizio, chiami caio, chiami sempronio, fai due o tre telefonate e gli chiedi io ho questa macchina con questo numero di motore. Se monto l'impianto GPL è vostro, è a posto, le valvole tengono, non ho problemi o devo pensare di fare delle modifiche alle valvole per mettere delle valvole che riescono a sopportare temperature più elevate o che lo dissipano in modo più veloce. Solitamente sono il sodio o sono i mimoni, ci sono degli acciai molto particolari, molto pregiati che riescono a resistere temperature più elevate o dissipano questo calore eccesso in maniera molto più veloce. Questo è tutto per l'impianto GPL. Se vuoi approfondire il discorso, come sempre, scrivimelo qua sotto. Ciao, alla prossima! Oh, un like alla pagina! Ciao, grazie ancora, alla prossima! Ciao! 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 Ciao!